Musica Banca Montepruno, successo al Montepruno Day, prima assemblea con i collaboratori di Fisciano e con la Cassa Centrale Banca, festa del lavoro, riconoscimento della stella al merito al direttore generale della BCC di Buonabitacolo Angelo De Luca, primari e PD risultati positivi per il Vallo di Diano, Attilio Romano e Angela D'Alto all'Assemblea Nazionale, sala Consilina oggi al Cicerone, il Feminario, il Drone e le nuove opportunità per il professionista, Valdiano, stagione conclusa con una sconfitta, fallito l'obiettivo record Buongiorno e bentrovati al nostro telegiornale, apriamo con il Montepruno Day, una giornata speciale, quella vissuta ieri mattina a Roscigno e nel pomeriggio a Sassano, tutta proiettata al futuro ma con uno sguardo attento anche al passato e al presente, il presente rappresentato dalla presenza dei soci e nuovi collaboratori dell'ormai ex BCC di Fisciano e il futuro rappresentato dal direttore generale di Cassa Centrale Banca, il dottor Mario Sartori, che ha dato il via al nuovo cammino verso la riforma delle BCC in vigore dalla prossima estate, l'estate del 2018. Vediamo. Aria di festa ieri a Roscigno e Sassano per il Montepruno Day 2017, una giornata speciale iniziata la mattina con l'Assemblea dei Soci della Banca Montepruno, dove passato, presente e futuro si sono fusi in una sintonia perfetta. L'Assemblea dei Soci svoltasi a Roscigno è iniziata con un ricordo speciale verso i soci fondatori che purtroppo sono venuti a mancare e non hanno avuto modo di vedere la loro banca fermarsi tra le migliori e più affidabili BCC del Meridione e d'Italia, come riportato dall'Espresso. La Banca Montepruno di Roscigno e Laurino rientra infatti nel 34% degli istituti di credito italiani più sicuri rispetto al 66% di istituti di credito, risultanti invece a medio o alto rischio. Un risultato che acquisisce maggior valore se si va a valutare la storia di questo istituto di credito, nato dal coraggio di un gruppo di amici volenterosi di dare sostegno alle attività agricole e artigiane del loro piccolo comune e che da lì è arrivato oggi ad essere una delle banche più affidabili sicure in termini di oculatezza nelle operazioni e di vicinanza del territorio. Una banca da sempre attenta, senza però allontanarsi dai suoi principi statutari di essere vicina alla gente e di ascoltare le esigenze di un territorio. Il suo metodo operativo nel presente ha ancora una volta portato a raggiungere importanti risultati come riferiti in assemblea ieri dal direttore generale Michele Albanese nella relazione al bilancio 2016. Un'attenta gestione che ha portato la Banca d'Italia a chiedere alla Banca Montepruno la fusione per incorporazione con la BCC di Fisciano, ufficializzata lo scorso aprile 2017 e che porterà ad esportare il modello Banca Montepruno a Salerno dove nei prossimi mesi, come già annunciato, sarà aperta una nuova sede in via Irno. Una nuova sede arriverà anche a Padula in via nazionale nei pressi della chiesa di Sant'Alfonso. Ma il futuro della Banca Montepruno è soprattutto proiettato nella nuova sfida a seguito della riforma delle BCC che ha imposto la scelta di un gruppo bancario a cui aderire, su cui i soci della Banca Montepruno sono stati chiamati a pronunciarsi. Il direttore Albanese ha spiegato ai soci le motivazioni che li spingono ad aderire al gruppo Cassa Centrale Banca e i soci hanno approvato all'unanimità seguito da un fragoroso applauso che segna l'inizio di un nuovo percorso per quella piccola Cassa Rurale d'Artigiana nata 55 anni fa nel suggestivo borgo di Roscigno. Nel pomeriggio tutti a Sassano, al Parc Hotel Montpellier, dove il direttore generale di Cassa Centrale Banca ha raggiunto gli amici della Banca Montepruno a simboleggiare come il nuovo percorso che ci si appresta ad intraprendere sarà un percorso lungo ma che sarà affrontato insieme. Come abbiamo sentito si è parlato tanto ieri degli ottimi risultati raggiunti dalla Banca Montepruno nell'anno 2016 così come si è parlato anche delle importanti novità che riguardano il futuro dell'Istituto di Credito. Su questi temi abbiamo raccolto le parole del direttore generale della Banca Montepruno Michele Albanese, il presidente Anna Miscia, il vice direttore Cono Federico e il direttore generale di Cassa Centrale Banca Mario Sartori. Ascoltiamo. È una bellissima giornata, a me quello che entusiasma molto è la serenità sui volti dei nostri soci stamattina, vederle sorridere, vederle felici, vederle contenti di questa banca, di questa loro banca. E questa è la più grande soddisfazione che può avere un direttore di un istituto come il nostro che lavora e ha lavorato sempre con serietà, con abnegazione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, oggi ancora una volta chiudiamo un bilancio d'esercizio record, con numeri importantissimi, ma io ritengo che non sono solo i numeri a dover stabilire l'importanza e la solidità di una banca. Oltre ai numeri ovviamente in crescita, la nostra banca svolge un ruolo molto sociale, gli viene riconosciuto un poco da tutti e da tutte le testate anche giornalistiche, non ultimo a quello del Corriere della Sera che ci ha visti la banca degli ultimi, questo lo dice tutto, questo titolo a noi ha molto emozionato perché fa capire che il nostro istituto non fa solo banca, ma fa tantissime attività. Oggi poi festeggiare, perché il termine giusto è quello, non è solo l'approvazione di un bilancio o la scelta di un gruppo, ma festeggiare insieme ai soci quelli che sono i risultati, perché i risultati e i buoni risultati vanno festeggiati. Chiudere un esercizio con un utile lord di oltre 5 milioni e 3, beh è una grossissima soddisfazione che ci promette ancora una volta a patrimonizzare la nostra azienda. Poi tra l'altro è la prima in assoluto con la BCC di Fisciano, una banca che sicuramente ha avuto i suoi momenti di difficoltà, ma grazie alla nostra banca sicuramente ritroverà splendore, lo ritroverà perché la nostra banca è una banca sotto gli occhi di tutti, è umile, è una banca che sta con i piedi per terra e è sempre attenta a quelle che sono le esigenze di un territorio. Stiamo lavorando già benissimo sulla Valle dell'Irno, Banca d'Italia ci ha già autorizzato una filiale nella città di Salerno, a settembre inizieranno le attività anche su questa città, beh si completa anche un ciclo importantissimo per il nostro istituto, che dire, sono belle soddisfazioni. Noi quest'anno abbiamo la formazione dei gruppi, quindi con la modifica del crezio cooperativo, è vero che siamo agli inizi ma già incominciamo a sentirne i riflessi. Poi abbiamo la fusione in questo momento, la fusione per noi rappresenta l'avvio di un nuovo obiettivo, perché nella vita bisogna sempre averli questi obiettivi. Siamo sicuri di farcela, con la buona volontà di tutti, con l'impegno di tutti, come è sempre stato, sono sicura che riusciremo a raggiungere dei buoni risultati. Chiaramente non sarà l'anno prossimo, non sarà fra due anni, ma nell'arco di cinque anni la banca raggiungerà di nuovo e forse supererà anche i risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi, perché noi andiamo ad inserirci in un territorio nuovo, molto più vasto, che se sappiamo gestire bene ci potrà portare veramente dei risultati notevoli. È evidente che dovremmo continuare a gestire come abbiamo sempre fatto, come un buon padre di famiglia. Quindi dobbiamo sì, è vero assistere il territorio, è vero assistere tutta la clientela, ma con le opportune valutazioni, al fine poi di non perdere tutto quello che abbiamo raggiunto in questi anni di sacrifici. Siamo tutti quanti qui a Roccino, è venuto anche un buon numero di soci dalla nostra nuova zona di competenza di Fisciano. È un modo per celebrare anche con loro i risultati positivi del bilancio 2016, sia in termini di raccolta, di impieghi, dell'utile e del patrimonio che abbiamo raggiunto. Questo è sintomatico del fatto che la nostra banca vuole crescere in nuovi territori, mantenendo però sempre il proprio modo di essere Banca Mondepruno vicino alle persone. È passato giusto un mese dall'incorporazione della Fisciano, allora qual è questo primo bilancio? Ad oggi mi sento di dire che è positivo. Ho visto i miei nuovi colleghi, molto motivati, a riprendere il modo di fare banca tipico del credito cooperativo, vogliono tutti dimostrare le proprie capacità di essere delle persone valide, professionali e anche il territorio risponde positivamente. Questo testimonia che evidentemente il modo di fare banca legato al territorio va bene anche in zone diverse da quelle dove eravamo fino ad ora. Montepruno è l'esempio di quello che è la sfida della riforma del credito cooperativo, creare un gruppo bancario forte, moderno, organizzato, tecnologicamente avanzato, però mantenere il cuore nei territori con delle banche come Banca Mondepruno che hanno il cuore e il cervello al servizio dei soci e dei clienti. Questa è la sfida. Quindi insomma una sfida comunque a lasciare intatti quelli che sono i valori del credito cooperativo. Ma l'ha scritto tutti anche la vigilanza è fondamentale, è un valore enorme per il Paese, lo dobbiamo salvaguardare. Quindi da una parte le banche di credito cooperativo che si evolvono, dall'altra mantenere un sistema di piccole banche al servizio del Paese e un sistema di piccole banche di cui il Paese ha veramente bisogno. Insomma grazie a Banca Montepruno e altre 100 BCC abbiamo superato il traguardo delle 100 banche di credito cooperativo che ci hanno dato fiducia. Possiamo costruire un gruppo nazionale che parte in Alto Adige e arriva in Sicilia e che quindi può accreditarsi come uno degli importanti gruppi bancari italiani, però un gruppo che come diceva lei nella premessa della domanda deve mantenere il cuore nei territori. Quella sarà la forza del gruppo. Organizzazione moderna, tecnologia moderna ma un attaccamento forte alle nostre radici. Ancora a Montepruno Dei, una festa di grande spessore brillantemente organizzata da un'attenta Marianna Cafaro che oltre a curare nei dettagli l'organizzazione dell'evento riesce come ogni anno a portare il Montepruno Dei anche grandi ospiti. Ieri sera ad affiancare Antonio Massandrea nella conduzione della serata la giornalista e presentatrice Rai Veronica Maia oltre alla sua bellissima presenza sul palcoscenico allestito presso il Parco Hotel Montpellier di Sassano è salito anche il giornalista Rai Angelo Raffaele Amelio che ha condotto il talk show sul tema della riforma. In conclusione tantissime risate con il comico pugliese Uccio De Santis che ha divertito il pubblico. Vediamo. Sicuramente un orgoglio anche per me perché sono figlio di questa terra e quindi sono felicissimo di celebrare insieme agli altri e agli amici i successi di questa grande e solida realtà che cresce ogni giorno di più. E poi insomma questa non è soltanto un'occasione per celebrare i fasti di questa di questa solida realtà della banca Montepruno ma è anche un'occasione per approfondire un discorso che di questi tempi è sulle prime pagine di tutti i giornali cioè la riforma del credito cooperativo che è una riforma molto 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 dibattuta lo è stata in fase di discussione di istruttoria, lo è tuttora anche per quanto riguarda e riguarderà lo sviluppo dei vari segmenti di questa riforma. Quindi è un'occasione di arricchimento della conoscenza perché è sempre bello ed importante comprendere e conoscere come si sviluppano questi rapporti bancari perché ci riguardano in prima persona. E poi è anche un'occasione non solo per celebrare ma anche per condividere certe nozioni e condividere significa stare insieme, stare insieme è la ragione sociale del credito cooperativo. Quindi questo è uno dei motivi per cui sono molto felice di essere qui. Ero stata qui più o meno una decina di anni fa con Linea Verde e poi ho seguito tante iniziative legate al territorio nel tempo per cui è un piacevole ritorno. Invece è la mia prima volta al Monte Pruno Dei. Sono molto contenta di esserci. Devo ringraziare Marianna Cafaro che ha avuto l'idea di presentarmi al presidente, presidente che poi ho conosciuto e quindi una realtà dinamica, giovane, che pensa al futuro, che pensa ai giovani, che pensa ai più piccoli. Insomma credo tutto questo sia abbastanza raro al tempo d'oggi e quindi bello che iniziative, perché sono tante di questo tipo, partano proprio da questo territorio, dal sud, dalla campagna. Insomma quindi parliamo appunto dei giovani. Questa è una banca che dà tanto spazio ai giovani. Oggi lei nel mondo della televisione conosce bene quello che è un po' l'ambiente nazionale. Ritiene che queste iniziative, cioè dare magari maggiore fiducia ai giovani, possa essere più importante per una crescita, per superare magari le difficoltà. È doveroso, è necessario, è l'unica cosa che ti può dare qualche speranza per pensare ad un futuro che non veda soltanto i giovani andarsene all'estero per mille motivi, perché gli stipendi sono da fame, perché non c'è lavoro, perché non c'è un lavoro che gratifichi il percorso di studio che magari un giovane è intrapreso e a cui si è dedicato per tanti anni. Quindi quelli che sono andati via spesso, ecco nell'ultimo periodo, stanno cercando di tornare con grande fatica. Per cui di iniziative di questo tipo ce n'è bisogno. Ce n'è bisogno per i giovani, ce n'è bisogno per le famiglie che sostengono i giovani e quindi magari questa banca fosse in qualche modo copiata, imitata nel suo format da molte altre, magari. Sorridere fa bene. Mi piace quando mi fanno il complimento che seguendo il mio programma che va in onda quotidianamente e dicono sono riuscito a dimenticare quello che era il problema, quello che devo fare, quello che... e a me chi mi fa dimenticare tutto? Boh! È seguitissimo anche sui social grazie ai suoi sketch che vanno tantissimo quelli dei carabinieri, però insomma sono tanti ormai e spazia un po' con gli argomenti. Come li sceglie? Eh, allora ci sono i carabinieri ma ci sono anche i medici, i medici non li trascuriamo, ci sono delle scene girate anche in banca, a proposito della banca, e ne scegliamo, io dico sempre al mio pubblico, basta osservare quello che fa la gente, quello che dice ascoltare, quello che dice la gente, che stai pur certo che dopo qualche istante, qualche barzelletta, qualche testo comico viene fuori. Io non scorderò mai quando parlavano due persone, uno dice all'altro, ma tu sei sposato da quanto tempo? 18 anni. Ah, 18 anni di matrimonio. E come va il tuo matrimonio? Il mio matrimonio diciamo facendo le corna va bene, ecco. Se stai attenta, ecco, c'è anche da sorridere facendo le corna. E quindi stiamo attenti a quello che dice la gente e non vuoi si scrivono i testi comici. Oppure un altro lavoro che viene fatto è quello di selezionare, di leggere tante di quelle barzellette che ovviamente sono di dominio pubblico, e andarle a sceneggiare. A sceneggiare e là ci divertiamo tantissimo. Ieri era la festa del lavoro e per l'occasione il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto premiare con la stella al merito chi negli anni si è particolarmente distinto come creatore di lavoro. In un periodo in cui i dati sulla disoccupazione, soprattutto giovanili, sono sempre più tristi e negativi, il Presidente Mattarella ha voluto premiare e riconoscere l'impegno a chi riesce ad offrire lavoro e opportunità soprattutto per i giovani eccellenze presenti anche in Campania e che sono state premiate ieri a Napoli presso la stazione marittima, dove a ricevere i riconoscimenti per i meriti al lavoro c'è stato anche il Direttore Generale della BCC di Buon Abitacolo, Angelo De Luca. Le storie di lavoro in una terra che il lavoro lo cerca ogni giorno, sono storie di uomini spesso silenziosi che con dignità ed impegno ogni giorno onorano il lavoro e lo creano. Ieri a Napoli, presso la stazione marittima, la consegna dei prestigiosi riconoscimenti del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, delle stelle al merito. 74 nuovi maestri del lavoro della Campania, 13 della provincia di Salerno. Sono uomini e donne che il Presidente della Repubblica ha voluto gratificare con la stella al merito consegnata in una cerimonia solenne. A ricevere il riconoscimento anche il Direttore Generale della BCC di Buon Abitacolo, Angelo De Luca, dalle mani del Prefetto di Salerno, Salvatore Marfi, per i singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale e per la visione, l'inventiva, la dedizione e per essersi prodigato per istruire e preparare le nuove generazioni al lavoro. Angelo De Luca è un esempio di serietà e concretezza per il mondo bancario che in questo momento sta vivendo una stagione delicata e controversa, ha dichiarato l'assessore regionale alle politiche del lavoro Sonia Palmieri. Un riconoscimento per il suo modo di fare banca solida, esempio di quel sistema di credito di cui i necessi del nostro paese. Ad accompagnare il Direttore De Luca, la sua famiglia, gli amici più cari, il Sindaco e il Vice Sindaco di Sanza, Francesco De Mieri e Antonio Forte. Un orgoglio per la nostra comunità, ha detto De Mieri, esempio di serietà e concretezza. Un vivo ringraziamento a Angelo De Luca per quanto ha saputo fare creando lavoro, dando sostegno all'economia locale, sostenendo piccole aziende e famiglie. Un esempio per i più giovani, un modello di comportamento che lo rende un maestro di vita, ha concluso De Mieri. Visibilmente emozionato, il Direttore De Luca ha dedicato questo suo riconoscimento a tutti coloro che si impegnano per il lavoro in modo silenzioso, che raggiungono grandi traguardi senza il clamore mediatrico. Per tutti coloro che lavorano duramente ogni giorno, ha riferito De Luca, che riescono ad offrire alle loro famiglie e ai propri figli un'opportunità di crescita grazie a quei sacrifici che ogni giorno vengono compiuti dal lavoro silenzioso e dignitoso. A quelle persone che si alzano la mattina alle tre per raggiungere la Piana del Sele, che restano piegate una giornata intera sotto il sole nella raccolta di fragole o pomodori. E a loro che dedico questo riconoscimento, ha sottolineato De Luca, sono loro l'esempio della dedizione al lavoro. A tutti coloro che hanno lasciato le loro famiglie in cerca di lavoro all'estero, a tutti i giovani che nel lavoro credono e che il lavoro lo inventano, ai miei colleghi e collaboratori che negli anni hanno consentito che la nostra banca diventasse un modello, alla mia famiglia nel ricordo dei sacrifici fatti da mia madre e mio padre, e a concluso, ai miei amici, alla mia comunità, questo è un riconoscimento per loro. La compagnia dei carabinieri di Sapri ha disposto in tutto il golfo di Policastro controlli a largo raggio in occasione del meeting del mare. I carabinieri della stazione di San Giovanni Appiro, comandati dal maresciallo Roberto Ricotta, durante uno dei numerosi posti di controllo effettuato lungo le arterie principali che conducono a Sapri, hanno fermato a bordo della propria autovettura Alessandro Esposito, classe 81, e residente a Napoli, il quale risultava ricercato per un ordine di esecuzione di fine pena. L'uomo dovrà scontare un anno e sei mesi agli arresti domiciliari, poiché condannato per i reati di ricettazione e violazione del diritto d'autore commesso a Napoli nel 2009. Nel corso della manifestazione per il controllo delle strade e dei partecipanti alla Kermes sono stati impiegati 30 uomini dell'arma unitamente ad alcune unità cinofili di Sarno che hanno consentito di segnalare sette soggetti per uso di sostanze stupefacenti nonché deferire due persone, entrambe residenti a Napoli, per guida in stato di ebbrezza. E cambiamo argomento. Si sono svolte le domenica scorsa le primarie del PD che hanno fatto registrare un risultato decisamente positivo per il Vallo di Diano. Vediamo. Il Vallo di Diano può essere soddisfatto del risultato delle primarie del PD con ben due eletti all'Assemblea Nazionale del Partito. Stracciante vittoria a livello nazionale dell'ex premier Matteo Renzi che ha vinto con il 71% rispetto ai contendenti con Orlando II che ha ottenuto il 19,5% delle preferenze ed Emiliano con appena il 10,49% dei voti. Nonostante tutto però le polemiche non sono mancate partite soprattutto dal Ministro della Giustizia Andrea Orlando che ha dichiarato come la percentuale reale per Matteo Renzi sia al 68%. In ogni caso vittoria schiacciante. Le polemiche sulla regolarità del voto erano prevedibili già al momento delle elezioni quando dalle pagine dei maggiori quotidiani vengono evidenziati casi di immigrati presenti nei seggi come il caso di Ercolano. Polemiche che però non mettono comunque in dubbio la scelta del nuovo segretario del partito. Per quanto riguarda invece il Vallo di Diano ed in generale il Collegio Salerno XII Emiliano ha ampiamente superato nei consensi il Ministro della Giustizia un risultato che ha portato due dei contendenti nell'Assemblea Nazionale ad essere eletti. Oltre ad Attilio Romano, sindaco di Casalbuono e presidente del GAL Vallo di Diano candidato per la mozione Renzi anche Angela D'Alto che ha sostenuto il progetto di Michele Emiliano è riuscita ad essere eletta grazie ad un considerevole numero di voti raccolti non soltanto nel suo comune dove ricopre la carica di vice sindaco ma anche in altri comuni valdianesi come Montesano, Padula, Teggiano ma anche Sant'Arsenio che hanno manifestato grande fiducia in Angela D'Alto e quindi nella mozione di Emiliano consentendo di attestarsi al secondo posto e di risultare tra i collegi campani dove il governatore della Puglia ha ottenuto il maggior successo. E si continua a parlare dell'ospedale di Polla dopo le notizie relative al reparto di radiologia due iniziative a sostenerne le sorti, quella del Codacons e quella del dottor Pietro Greco. Vediamo. Il Codacons di Sala Consilina ha inviato una lettera al direttore generale dell'ASL di Salerno circa l'ultima questione sanitaria riguardante l'ospedale di Polla ossia l'impossibilità di prenotare l'esame ecografico all'anca per i neonati al terzo mese di vita e quindi circa le sorti dell'ospedale di Polla la cui unità operativa di radiologia, scrive il Codacons in un comunicato stampa non avrà mai più un primario essendo stata deglassata a unità operativa semplice e dipartimentale. Noi siamo convinti, continua il Codacons, che il ruolo centrale che l'ospedale di Polla rivestito nel passato nel campo della sanità locale non sia stato riconosciuto appieno dall'azienda sanitaria negli ultimi anni con la conseguente progressiva diminuzione di posti letto e la scomparsa di interi reparti. Agli oltre 300 posti letto degli anni 90 se ne contrappongono oggi 212 programmati così come riportati nell'atto aziendale. In realtà sono solo 174 perché, scrivono dal Codacons, i 20 posti letto della unità operativa semplice e dipartimentale recupero e riabilitazione e i 4 di gastroenterologia non sono immediatamente riscontrabili nelle attuali strutture. Per gli 8 di psichiatria invece il personale di questo reparto è stato trasferito a Vallo della Lucania e i 6 di otorino-laringoiatria semplicemente non esistono non essendo presente l'unità operativa. Pertanto 38 posti letto esistono solo sulla carta. Intanto, sempre in seguito alle notizie del reparto di radiologia, parte una nuova iniziativa del dottor Pietro Greco. Il nostro ospedale di Polla, scrive sulla pagina Facebook di Difendiamo le nostre strutture sanitarie, ha bisogno urgentemente di forze nuove e di mezzi nei punti nevralgici. Credo in un patto della sanità armato, armato di amore per i nostri figli, nipoti, genitori, per la nostra terra, al di là di facili demagogie e di clientelismi politici. Uniamoci tutti, i vari comitati, le associazioni, gli amministratori, Codacons, imprenditoria, istituti bancari del territorio, perché ridurre la nostra sanità vuol dire anche meno economia. La nostra sanità è l'ultima fabbrica rimasta dopo gli scippi avuti, ferrovia, tribunale, carcere. Finiamola di agire autonomamente e finiamola di credere a manifestazioni di massa. Uniamoci tutti in questo patto con dei rappresentanti di ogni categoria che può sbattere i pugni, non per strada, ma nelle sedi opportune, ASL e Regione. Io ci metto la faccia e l'amore. Credo nella nostra sanità e nei nostri ospedali. Ma, conclude il dottor Greco, bisogna subito urlare e chiedere con forza. Spero che venga ascoltata questa iniziativa senza inimicizie politiche. E adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Il drone e le nuove opportunità per il professionista. Questo è il titolo del seminario formativo per geometri che si è tenuto oggi all'Istituto di Istruzione Superiore Cicerone di Sala Consilina. L'iniziativa nasce dalla collaborazione sinergica tra l'Istituto, il Collegio Provinciale dei Geometri e la società Analyst Group. Il programma della giornata prevedeva una prima fase teorica che poi si è conclusa con una esercitazione operativa di volo con il drone e la successiva elaborazione dei dati ottenuti. Ascoltiamo le interviste realizzate questa mattina. Grazie. 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 Sabato scorso presso l'hotel Certosa a Padula si è tenuto un incontro dei soci del Rotary Club Sala Consilina Vallo di Viano preseduto dall'avvocato Pasquale Gentile tra i relatori Giuseppe D'Amico che ha raccontato il Vallo di Viano prima dell'unità d'Italia. Grazie. L'argomento è il vallo prima dell'unità d'Italia. Perché questo argomento? Perché in un'epoca in cui si parla di quella che era la situazione del regno delle due Sicilie prima dell'unità d'Italia, noi vogliamo parlare di quella che era la situazione nel Vallo di Diano, una situazione che era completamente diversa da Napoli. Napoli certamente era una capitale di livello europeo, ma non altrettanto si può dire delle province e quindi, perché no, anche della nostra zona. Non si parla né di Muti del 28, né di Pisacane, né di Garibaldi, si parla di quella che era la situazione del Vallo di Diano da un punto di vista sociale, politico e economico, ma soprattutto anche in rapporto al cosiddetto Stato salutare nella nostra zona. E poi parleremo anche dell'importanza del decennio francese. Perché? Perché il decennio francese per la prima volta ha spazzato via quel residuo medievale che era appunto il feudalesimo. fu praticamente chiuso quello che era lo Stato di Diano con i suoi cinque paesi che facevano da corona. Si tentò di istituire le prime scuole pubbliche, cosa che prima non c'era. Uno dei cavalli di battaglia dei Roteri è la tutela dell'identità storica, culturale, architettonica e naturalistica del Vallo di Diano. E quindi ci sono anche delle occasioni nelle quali bisogna parlare dei momenti storici importanti per il Vallo di Diano. E il risorgimento è sicuramente uno di questi. Per cui questa sera il nostro socio, il nostro amico, il geppino d'amico, storico per passione, ci porterà a conoscenza di alcuni aspetti nascosti della storia risorgimentale del Vallo. riteniamo che sia un incontro utile e che sia un incontro importante, anche per capire quale può essere il futuro del Vallo, per evitare magari degli errori che ci sono stati in passato, che devono essere di esempio per trovare la giusta via per il futuro del Vallo. Anche quest'anno il Vallo di Diano ospiterà le famiglie i cui bambini sono affetti da malattie oncoematologiche. La vacanza del sorriso, grazie all'associazione Cilento Verde Blu e il suo presidente Giuseppe Damiani, consentono ai piccoli affetti da queste malattie di trascorrere giorni di serenità e divertimento. Le vacanze per i piccoli e per le loro famiglie diventano anche parte integrante delle terapie di recupero. L'associazione Cilento Verde Blu ogni anno si dedica ad organizzare queste settimane di vacanze attraverso il sostegno di imprenditori, attività ricettive, amministrazioni comunali, associazioni varie che offrono ognuna di esse in forma totalmente gratuita giorni di divertimento. Purtroppo sempre più spesso si registrano casi in cui le famiglie non possono permettersi di affrontare le spese di viaggio per raggiungere il Vallo di Diano. Per raccogliere fondi quindi e pagare le spese di viaggio, le compagnie teatrali organizzano appuntamenti con i proventi che saranno destinati alla causa, come è successo sabato scorso presso il Cineteatro Totò di Sassano. La novità c'è quest'anno, avremo delle famiglie in più rispetto agli anni scorsi perché tanti altri operatori, alberghi, anche delle amministrazioni si sono inseriti nel nostro gruppo di operatori che poi sostiene la vacanza del sorriso. Quindi con tanta gioia riusciamo ad arrivare quasi a 20 famiglie, ospiti, anche per la prossima sessione del Vallo di Diano, che è quella dinamica, così abbiamo chiamato, che si svolgerà nella prima settimana, dall'1 all'8. E lì pure abbiamo sviluppato un percorso bellissimo, come solo il Vallo di Diano si sa produrre, tra la Cercosa di Padula, i vari borghi medievali, le piazze più importanti dei vari paesi del Vallo di Diano, e poi tutte le attività ludiche e ricreative che riusciamo a produrre in questi momenti. Ormai il Vallo di Diano è la vacanza del sorriso, il Vallo di Diano è solidale, ci dà una base forte e solida. E dicevamo del premio, inaspettatamente abbiamo ricevuto questo premio di un Pino Puglisi nell'ottobre scorso, era inaspettato per noi, però stasera vorremmo condividerlo con i sassanesi, almeno quelli presenti nella sala, perché un pezzo di questo premio, questo riconoscimento alla vacanza del sorriso, è anche da condividere con i valdianesi e anche con i sassanesi. Ancora una volta stiamo proponendo questa rassegna teatrale con una trentina di spettacoli durante tutto l'anno tra il Vallo di Diano, il Cilento e gli Alburni. In genere per fare la vacanza del sorriso noi non raccogliamo fondi, ma prodotti e servizi potrebbero essere delle cene, i servizi di trasferimento con i bus e quant'altro. Però ecco, un problema ce l'abbiamo perché non riusciamo a sopperire alle spese delle famiglie indigenti. Ecco, perché il rischio c'è, insomma, ci sono delle famiglie che stanno in condizioni non solo sanitarie, diciamo, dovute ai piccoli, ma anche economiche, che non permettono la vacanza gratuita, perché noi non riusciamo a metterci anche la gratuità dei biglietti. Però con questa raccolta fondi, fatta grazie alle compagnie teatrali, riusciamo a racimolare un gruzzolo di denaro che ci serve almeno per sopperire le famiglie più bisognose e quindi garantire a questi bambini una vacanza utile, ricreativa e necessaria per loro come quella che proponiamo. Possiamo dire a questo punto con tutta la certezza che la comunità cilentana, pardinese e alburnese si unisce ed è un unico battito, insomma, un battito che permette di ospitare quasi 200 famiglie all'anno, un mare di gente e permette di collaborare con i maggiori ospedali pediatrici o anche metodologici nazionali e anche con delle associazioni che si occupano di assistenza alle famiglie e noi siamo veramente contenti, felici e approfitto per ringraziare la nostra comunità che veramente ci sta sostenendo, aiutando, grazie per la fiducia. Però dobbiamo andare avanti perché vi dico che man mano che andiamo avanti le richieste da parte delle strutture sociosanitarie sono sempre maggiori. Allora aiutateci e noi regaleremo dei sogni tutt'assieme a questi meravigliosi bambini. E passiamo allo sport. Contro il San Tommaso il Valdiano va a K.O. per 3 a 1. Una sconfitta che non brucia in quanto la salvezza era stata già raggiunta la scorsa settimana. Una partita ininfluente per il Valdiano che allo stadio Medici di Polla ha ospitato domenica pomeriggio il San Tommaso. La formazione irpina si è imposta per 3 a 1 con le marcature di Ammendola, Mallardo e l'autogol di Casella mentre per i Blaugrana inutile il gol del momentaneo pareggio di sorriso su calcio di rigore. Una sconfitta che impedisce al Valdiano di realizzare il record di punti nel massimo torneo regionale e con 38 chiude la propria stagione al nono posto. Ciuso il campionato ora è il momento di festeggiare una salvezza isperata soprattutto dopo le cinque sconfitte nelle prime cinque giornate di campionato e dopo i miseri quattro punti conquistati prima del mercato di dicembre. Per quanto riguarda gli altri verdetti del campionato di eccellenza con le politana già certe della promozione in Serie D accedono ai playoff il Sorrento che affronterà il primo turno contro il Faiano la Battipagliese che riceverà al primo turno l'Audax Cervinara. Le vincenti si sfideranno nella finale del Girone che consente poi l'accesso ai playoff nazionali. In coda invece alla classifica ci saranno le sfide San Tommaso Santagnello e Castel San Giorgio Polisportiva Santa Maria con le perdenti che retrocederanno in promozione. Con lo sport termine il nostro Tg. Vi ringrazio di essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.